Oh, di questo ve ne volevo assolutamente parlare, perché credo sia la mia parte preferita. Allora, partiamo da lui, Factum. Ebbene, si chiama così perché... la mia cucina presa l'IKEA a quel tempo si chiamava così. E qui vi cade un mito, lo so, lo so, però il nome mi piaceva, suonava bene, e così Factum. Contate che il 90% dei nomi che trovavo per i miei personaggi o erano prodotti dell'IKEA o parole latine. Spectum, ad esempio, per la sua maschera, la Comau, grande maschera del controllo mentale. Factum, in realtà, anche perché richiamava fare, agire e factotum, proprio perché aveva tantissimi poteri e quindi capace di fare qualunque cosa. Per chi se lo ricorda, Allutec, un Toa apparso nelle mie primissime serie, era un nome di una ferramenta che vidi in viaggio in macchina. Sì, ve lo giuro, è proprio... ero in macchina, proprio... guarda in giro... Ah, Allutec, potrei chiamare un Toa così. Lo giuro, è successo proprio così. Zorfac, invece, perché se ve lo ricordate, il mitico Zorfac apparso per la prima volta in un mio primissimo video di auguri. Sì, proprio in quel video appariva come un Bionicle affiliato al fuoco. Quindi il suo nome derivava da Zolfo. Poi il suo aspetto è cambiato e vabbè. Il suo nome, però, ricorda le sue origini bollenti. Tornando a The Revenge of the Power, i Potmatoran si chiamavano così perché la particella Pot stava per Potere. Banale, lo so. In realtà volevo utilizzare il termine greco per Potere, ovvero Kratos, e quindi Kramatoran. Ma è già il termine utilizzato per gli Shed of Matoran, e quindi ho lasciato perdere. E poi... Bionui. Bionui sta per Bionicle, e il Nui lo sapete. Banalissimo pure questo, ma stava ad indicare che era l'isola per tutti i Bionicle, non che una razza era su una specifica isola come nella storia canonica. Ed ecco perché Bionui, nell'universo parallelo dove avvengono le vicende dei miei video, è la fusione di tutte le isole. No, non sto qui a parlarvi di ogni singolo personaggio, quindi tratterò solo i principali. Il design della maschera di Factum è di BloodKirby84, o conosciuto anche come Crazy Carapar. Ma Factum, nelle vicende di Bionui, non indossa una taiku, ma una Kanoi Kanoka, di cui non parleremo ora. Sempre in The Revenge of the Power, viene rivelato che Factum è stato creato come traghettatore dei Bionicle defunti per l'oltretomba. E utenti un po' più esperti sanno che nel mondo Bionicle questo non è altro che la Red Star. Ispirato comunque a figure come il tristo Mietitore e Psicopompo come Caronte, nella mano sinistra impugna una lancia con un fuoco che non scotta, proprio perché è etereo. È un teschio, capace di creare un portale direttamente per il mitico Oltretomba. E poi perché, oh, un teschio fa figo. Sempre per sottolineare la natura demoniaca di Factum, la sua mano destra è molto più grande. E questa è una citazione al fumetto Hellboy. Ho anche voluto dare una forma animalesca a Factum. Ecco il perché della coda che sviluppa e di quelle grosse... cose... color metallico che ha sulla schiena. E no, non erano armi, ma parti dell'armatura. Delle specie di placche e osse. Dietro però aveva con sé due coltelli come quelle di Prydak, capaci di penetrare il protostil. Ma proprio come quelle di Prydak, eh. Come le ha ottenuti non si sa. Non lo so neppure io. Factum, perché hai... Ah, sì, vabbè. Zorfak, da Makuta del Fuoco, assume una forma insettoide perché amo la follia e il design dei Makuta Mistica. Quindi volevo il mio personale Makuta Insetto. La sua maschera è... Pronti per altro materiale banalissimo. La Kanoi Blackout, che poi ho rinominato come Kanoi Alux, è capace di rimuovere completamente la luce in un luogo chiuso. Solo in luoghi chiusi, perché la luce rimossa veniva temporaneamente immagazzinata dentro l'armatura di Zorfak. Ma non poteva tenerla a lungo, perché dopo che i Makuta avevano espulso tutta la luce, diventando solo creature dell'ombra, per lui era come veleno. E immagazzinare tutta la luce in una battaglia all'aperto... Sì, sarebbe morto all'istante. Probabilmente bruciato. O imploso. O esploso. E' anche vero che Zorfak aveva la mano più grande come Factum, ma è puramente casuale, niente eccitazioni ha il boy. Eh ma Sif, ci sta, visto che Zorfak, Zolfo e il boy, no? No. Ammetto però che la mano così dentellata può ricordare le tenaglie di molti insetti. Quindi è per quello che ha la mano così. Niente è il boy. Scusa Zorfak. Anche Spectum ha una forma insettoide, ma solo per la faccia, per lo stesso motivo di Zorfak. Essendo quello più intelligente della squadra di Factum, gli ho dato come armi a destra una spada dentellata, per richiamare la sega taglia ossa medica. Nella sinistra invece ha un marchigegno ideato da lui per analizzare e ottenere dati da studiare o per trarre vantaggio dai nemici. In The Missing Gears, di cui parleremo più tardi, questo strumento sarebbe stato una chiave fondamentale per la vittoria dei Makuta. Diversi Cooks invece era il più stupido del gruppo. Si dice per ripetuti esperimenti su di lui da parte di Spectum. Un po' come la storia tra Takadoks e Karapar. Il suo nome singolare racchiude proprio la sua essenza. Quando costruivate non vi rimanevano sempre dei pezzi in più? Ecco, diversi Cooks, un po' raffazzonato ma pur sempre un Makuta. Alcuni dicono che il suo aspetto è così perché fu uno dei primi Makuta a cui Matanui ha dato la vita. Quindi una sorta di esperimento, una brutta copia, per poi realizzare i veri capolavori. Fu ovviamente bullizzato da molti, alcuni non lo consideravano neanche. Non realizzò molti Rai e Miserix non lo assegnò a nessuna isola, ma destinato a rimanere a Destral. L'unico suo pregio era la sua grande forza distruttiva. Quando c'era qualcosa da spaccare o qualcuno da uccidere, chiamarlo era una delle prime opzioni. Potete ovviamente immaginare la felicità del povero Diversi Cooks. Ah, poverino, gli unici momenti in cui poteva brillare. In The Factum Story era, diciamo, il personaggio in più, il copri-buchi, anche se adoravo l'idea della sua maschera. La maschera della disperazione, la Kanoi Crux. Provocava per l'appunto disperazione del bersaglio, così da renderlo facile preda dello spadone di Diversi Cooks, o schiacciato dal suo scudo di Protosteal. La sua Kanoi è modificata, quindi non è la sua forma originale. Tecnicamente dovrei concludere qui, ma anche se non è un personaggio principale, vi parlo anche di lui. Il generale Kalec è ovviamente ispirato al generale Grievous, mio personaggio preferito di Star Wars. Ho voluto sottolineare questa sua somiglianza anche col suo nome. Kalec, infatti, è una storpiatura di Kalesh, nome della razza natia del generale. La sua mano sinistra è più grande proprio per lo stesso motivo di Factum. Eh, ha voluto lui che fosse costruito così, sì. Scusa Zorfac ancora, lui sì, ma tu no. E parlane con Factum, cioè... In più, il tubo dietro al collo di Kalec è un omaggio al Pokémon leggendario Mewtwo. E più o meno la loro origine e ribellioni si assomigliano, hm? Conoscete la wiki a Custom Bionicle? Un tempo avevo scritto delle cose, ma per inattività la maggior parte sono state tolte. Però se ci bazzicate, forse qualcosina la trovate. Se riuscirò, vorrei riscrivere le pagine dei quattro Makuta. Quindi, in futuro, provate a cercare. Magari troverete qualcosa. E se nel caso verranno cancellate anche queste, farò degli screen che caricherò nella descrizione di questo video. E se questo video verrà cancellato o non so cosa, non vi preoccupate, troverò un modo per farvi riavere tutto quanto.